Ora la pagina sportiva è interamente dedicata al calcio, ieri configurati i tre gironi del campionato di Serie C, sono stati sorteggiati i calendari e naturalmente c'è il calcio mercato che va avanti con le trattative. Per parlare di tutto questo c'è in studio Massimo Profeta che ringrazio e saluto, buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di visione d'ascolto, sì dicevi bene perché è chiaro che Pescara e Pineto dovrebbero far parte dello stesso girono, sicuramente il Pineto farà il girono e il Pescara con un punto interrogativo perché dipenderà dalla sentenza del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato si riunirà il 29 di agosto, di qui lo slittamento del calendario, del campionato alla domenica 3 settembre, è stato molto chiaro. Matteo Marani, il neopresidente della Lega, però qualche giorno fa ha detto che si comincia domenica 3 settembre. Se il Consiglio di Stato il 29 agosto dovesse ribaltare la sentenza del Tar non ci sarebbero ripescaggi e il Pescara finirebbe nel girone C. L'eventualità è remota, però la dobbiamo comunque considerare. In questo momento il Pescara è stato inserito nel giorno B, esordirà contro la Juventus Under 23 domenica 3 settembre. Questo è un avversario nuovo per questo girone. Sì, un avversario nuovo, sicuramente un avversario nuovo, è un avversario tra l'altro che sta facendo molto bene in questi anni perché la Juventus è stata la prima società in Italia a introdurre la formazione Under 23 per il campionato di Serie C. È stata seguita a ruota dall'Atalanta, infatti l'Atalanta farà il girone A, di solito è la Juve che fa il girone A e invece la Juventus è stata spostata nel girone B. Tra l'altro, come sai, come sanno tutti, sono grandi rapporti tra Pescara e Juventus per via delle tante trattative di mercato che ci sono state negli ultimi anni. Il Pineto invece esordirà a Gubbio, il Pineto che poi giocherà la prima in casa, si fa per dire, all'Adriatico Giovanni Cornacchia contro l'Entela. È un avvio di campionato duro, ma lo si sapeva perché poi ci sarà la trasferta di ancora. Attenzione, Pineto-Pescara domenica 24 settembre. Allora, sulla carta il Pineto dovrebbe fare le prime quattro di campionato all'Adriatico Giovanni Cornacchia perché lo stadio Mariani Pavone sarà pronto a fine ottobre. Però dal 21 settembre al 1 ottobre lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia ospiterà gli europei master di atletica leggera. Quindi Pineto-Pescara si potrebbe giocare lunedì 25 settembre, molto probabilmente, almeno questa sarà la richiesta delle due società, allo stadio Bonolis di Teramo, un posticipo sarebbe in questo caso. Quindi questa è una notizia che stai anticipando, no? Sì, l'abbiamo anticipata. Qui si parla in questi giorni. Esatto, l'abbiamo anticipata ieri sul nostro sito www.rete8.it. Nel pomeriggio, eccomi dai proprio l'assist, ci sarà una importante riunione che è stata convocata dall'assessore allo sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, nel pomeriggio di oggi, con i rappresentanti di Pescara e Pineto per cercare di trovare una soluzione adeguata. Senti Massimo, a naso perché è difficile fare previsioni, però il livello di questo raggruppamento, il raggruppamento B, com'è? Ottimo? Guarda, io ti dico, il girone B di solito è il girone in cui si gioca di più a calcio. Magari non ci sono stati tanto caldi, come può succedere nel girone C, come spesso accade nel girone C, dove ci sono tante piazze importanti, c'è più trasporto emotivo da parte della gente, del pubblico. Quindi diciamo che il girone B in questo momento è difficile fare una previsione, io non me la sento di farla, devo essere molto sincero. Io credo che un girone valga l'altro e sono d'accordo un po' con i dirigenti del Pescara. Fatto sta che il Pescara, questa è la mia personalissima opinione, se vuole disputare un campionato di vertice, alla luce anche della prima partita, certo soltanto una ne ha fatta il Pescara, quella con la reggiana di Coppa Italia, di categoria superiore, però se vuole ambire un campionato di vertice deve fare qualcosa di più, deve sicuramente cercare di ingaggiare degli elementi di spessore, io dico sia in difesa che a centrocampo. In attacco vedremo quello che accadrà perché sono appena arrivati Tommasini e Cangiano. Tommasini è un elemento di categoria, Cangiano ha svolto i primi allenamenti dalla giornata di ieri, è un giocatore che deve ancora esplodere, è un giocatore molto tecnico, un 2001 deve ancora compiere 22 anni. Quindi questi nuovi arrivi devono garantire in qualche modo i gol che mancano di Lescano e di Raffia. Sì, ma infatti perché poi assolutamente, perché mancano i 20 gol di Lescano, come giustamente sottolinei tu, come pensano un po' tutti i tifosi del Pescara, però io credo che il Pescara in attacco è messo bene in questo momento, secondo me servirà molto di più in difesa, in difesa per esempio ci sono solo quattro centrali, quattro centrali sì, sono garantite le coppie, però attenzione perché Mesic potrebbe anche partire, si parla di una cessione, c'è una Serie B tedesca che lo vuole, c'è anche il Venezia dell'amico Filippo Antonelli, DS del club lagunare pescarese Doc, ex Biancazzurro che lo sta seguendo, e poi c'è Staver, cioè il quarto centrale in questo momento è Staver che è un giovane di prospettiva sicuramente, ma è un 2003 che fino allo scorso anno ha disputato il campionato prima dell'era 2. Secondo me bisognerà fare qualcosa di più sia in difesa che a centro campo. Insomma c'è ancora tempo per poter irrobustire, innervare, soprattutto nella difensiva, il Pineto, il Pineto che è anche in difesa sta facendo dei buoni movimenti. Sì, assolutamente il Pineto, intanto vi dico che Marcello Di Giuseppe è stato attivissimo, ha rifondato di fatto il Pineto, ma era nelle previsioni, perché di solito quando una squadra di D vince il campionato insomma è chiaro che molti elementi vanno via, infatti sono 19 le operazioni in entrata ratificate dall'ADS Marcello Di Giuseppe, l'ultima proprio riguarda un difensore che ha una certa esperienza, Simone De Santis, classe 93, ha giocato col Catanzaro lo scorso anno con l'Ancona, col Matelica ha vinto il campionato di Serie D, ha anche giocato in Serie C con la squadra marchigiana, ma ha disputato anche sette campionati in Abruzzo col San Nicolò, vincendo un torneo di eccellenza con Epifani nel 2014. Ha cominciato nel Giulianova, è un 93, un giocatore di esperienza, tra l'altro Di Giuseppe ha riportato in Abruzzo anche Marco Teraschi, che è un 2001, che è cresciuto nel Delfino Porto Pescara, poi Di Giuseppe lo ha portato a Latina, lo scorso anno è stato frenato da problemi di natura fisica, adesso si è ristabilito, è un 2001 e va seguito con grande interesse. Perfetto, grazie, se non ci sono altre notizie da dare. Voglio solo ricordare che giovedì ci sarà un importante amichevole tra Pescara e Pineto, ma soprattutto per il significato profondo, perché sarà il secondo Memorial Matteo Serra, soltanto 18 anni, due anni fa, scomparso prematuramente a seguito di un incidente stradale, era una promessa del Pineto, si giocherà giovedì alle 18 allo stadio comunale Ughetto di Febbo di fronte Pineto e Pescara.